Ieri sera siamo stati al Cinema Garden di Clusone dove il Vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, ha incontrato i membri della comunità ecclesiale del Vicariato di Clusone Ponte Nossa. La organizzazione cristiana in forma nuova e significativa, se parlando di comunità cristiana non parliamo di adulti cristiani. E quindi certamente il tema della catechesi degli adulti e della formazione degli adulti è un tema decisivo. Sennò non facciamo delle operazioni di facciata, come si suol dire, ma ci lubbiamo. O questo lo riscontriamo? Saremo già con i cartelli chiusi? Non abbiamo i cartelli chiusi? E perché non abbiamo i cartelli chiusi? Perché in una comunità cristiana c'è le nostre parrocchie chiamati sempre più a diventare comunità cristiane, ma non è che non lo siano. E non immaginiamo mai la comunità cristiana perfetta. Non era nemmeno quella apostolica e nemmeno quella dei primi cristiani. Però sì. Cioè, pensare che la questione della fede è la questione che sta a cuore la Chiesa. Ma senza la Chiesa, la questione della fede è una questione puramente interluttuale. È un gioco. Vabbè, vogliamo dedicarci un po' a questo discorso. Una volta nella vita, per curiosità, ci dedichiamo. Ma... E questo. La fede e la Chiesa. E oggi la Chiesa avverte. Avverte questa dimensione che è assolutamente decisiva nella Chiesa di tanto tempo. Oggi la percepiamo di più per diverse ragioni. Alcune le ho ricordate. Ed è la dimensione missionaria. Oggi la Chiesa percepisce che... Che è missione. Che sta condividendo la missione del Signore. Che è il primo missionario. E lui il missionario. Anche oggi. Però questa missione appunto coinvolge i suoi discepoli come nel Vangelo.